questo momento. Verso una stretta è il titolo d'avvenire che oggi in prima pagina riporta anche l'intervista alla ministra dell'interno Lamorgese. Basta con le persone ridotte a fantasmi, flussi migratori regolari appena si potrà. Il mio obiettivo è arrivare, appena sarà possibile, a una ripresa dei flussi regolari, anche perché questo è il modo più efficace per sottrarre tanti migranti allo sfruttamento. Così la ministra parla della riforma di dei decreti sicurezza e dei suoi progetti per il futuro, che vediamo velocemente in questa pagina. Ecco qua il titolo. Basta fantasmi, ora umanità a venire. Decide di riportare proprio questo suo virgolettato per aprire l'intervista. I provvedimenti salviniani, ha detto la Lamorgese, hanno desertificato l'accoglienza diffusa, creato un esercito di persone senza identità. Ora l'obiettivo è la ripresa di flussi regolari di immigrati. Nell'intervista Lamorgese dice che non è stato facile arrivare a un testo condiviso per questa riforma. Spero che eventuali modifiche alle camere non intacchino l'impianto. Su due punti importanti interviene. Sulla protezione umanitaria dice che il nuovo decreto interviene col Bissuri, in linea con norme internazionali. ONG criminalizzate, giudizio ingeneroso, chiunque opera in mare è tenuto a rispettare le regole. E poi i centri inadeguati sono stati chiusi. A ottobre vuole di rimpatrio in Tunisia. Gli immigrati deportati da Roma a Palermo doveroso risolvere nella stessa regione.